Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove si segnalano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sempre verso Pisa per un incidente avvenuto al km 66-600 c'è un km di coda tra Capannori e l'allacciamento con raccordo Lucca-Viareggio. In A1 verso Bologna un km di coda per un veicolo fermo al km 304 tra Incisa-Reggello e Firenze Sud. In A12 per Lavori è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo, un'entrata verso Genova e un'uscita provenendo da Genova. In Fipilì in direzione Mare tre km di coda per un incidente tra Firenze-Scandici e la Strassigna. Code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. In direzione Firenze code a tratti tra la Strassigna e Firenze-Scandici. Ed è tutto, buon viaggio. In A12 per Lavori è chiuso lo svincolo di Rosignano.